La sicurezza del Made in Italy è un roadshow che Asso Sicurezza ha organizzato con alcuni suoi associati. Parliamone con gli attori. A Filippo Gambino, CEO di Hermes Elettronica, chiediamo. Obiettivo di questo roadshow è fornire ai partecipanti gli strumenti di conoscenza per una corretta progettazione, realizzazione e utilizzo dei sistemi di sicurezza. Lei è uno dei partner. Che applicazioni ha presentato? L'applicazione che abbiamo illustrato durante questo seminario è una versione particolare dei sistemi di allarme, di telesoccorso o comunque le cosiddette colonnine SOS che riguarda gli apparati per i cosiddetti spazi calmi. Gli spazi calmi sono quelle aree previste lungo le vie di esodo per cui in caso di incendio ci si possa rifugiare in attesa di soccorso. La normativa prevede che su queste aree siano inserite dei appositi dispositivi di comunicazione bidirezionali, sostanzialmente delle colonnine SOS che devono soddisfare in particolare alla normativa N62820. Ti ringraziamo per l'ascolto del podcast Sex Solution. Ti aspettiamo per i prossimi episodi.